E' precipitato dal tetto di una travata che ha ceduto. E' successo oggi, domenica 21 aprile, poco prima delle 15, presso un'abitazione situata in borgata Braida Croce a Valperga. Sul posto sono prontamente intervenuti la Croce Rossa di Castellamonte, l'elisoccorso 218, i vigili del fuoco di Ivrea, Rivarolo e i carabinieri. L'uomo è precipitato sulla soletta compiendo un volo di circa 4 metri. Dopo le prime cure è stato ritrasportato all'ospedale CTO di Torino. Non pare in pericolo di vita, in corso dei accertamenti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.